La solitudine negativa è causata da un trauma Dalla fine di un'amicizia Dal lutto E questa esperienza crea in noi Cosa? Essenzialmente Non solo la paura di restare soli Ma un senso di vuoto Crea un vuoto proprio Molte volte Un vuoto che nemmeno la persona Che vive questa esperienza Riesce a comprendere No, vi è mai capitato di sentire Quell'angoscia interiore E di non saperle dare un nome? Bene, questa è la solitudine negativa Quella solitudine di cui abbiamo già Iniziato a dire qualcosa ieri Che ci porta veramente a soffrire Che ci porta Ecco a fare un'esperienza Come se fosse la morte Ricordo Una volta Una persona Che nel pieno della notte Mi scrive Di aver chiuso Con la persona di cui si era innamorata E che aveva la morte nel cuore Quante volte noi diciamo questa parola Ho la morte nel cuore Perché viviamo La fine di un'amicizia Viviamo la fine di un amore Viviamo la fine di qualcosa Che ci riporta soltanto a noi stessi Ci stacca dal nostro mondo Dal nostro bisogno appunto Di relazionalità Bene, quante volte noi diciamo Ho la morte nel cuore E questo senso di avere la morte nel cuore È il senso della solitudine negativa Perché come vedremo Poi c'è una solitudine bella Positiva Che invece non ci fa sentire la morte nel cuore Anzi Ci fa risorgere Dalle morti che noi abbiamo dentro il cuore Dentro ciascuno di noi La solitudine Oggi In questo contesto È Proposta È costruita Da questa nostra società Guardate Che questo mondo E io mi auguro Che questa esperienza Del coronavirus Ci faccia riscoprire appunto Che siamo Come giustamente Ha detto Papa Francesco Siamo tutti sulla stessa barca C'è qualche segnale di questo Ma in me ci sono anche segnali Che invece Ci portano Dalla parte opposta Segnale in cui L'individualismo L'egocentrismo Torna ancora in maniera più prepotente Dicevo È importante Comprendere che questa società La società in cui viviamo Ci porta appunto A costruire solitudini Che cosa vuol dire Costruire solitudini Che cosa vuol dire Che una società Mi induce A vivere nella solitudine E perché mi costringe A vivere nella solitudine Lo vedremo domani Padre Pio TV Dritto al cuore Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti.